Bentornati sul mio canale amici o se siete nuovi benvenuti, sono Elisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì anche oggi sono qui con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Oggi amici parliamo di un caso molto misterioso, mi ci sono imbattuta per pura casualità e quando ho iniziato a leggere notizie e informazioni online non ho avuto dubbi, dovevo parlarne con voi, dovevo raccontarvelo. Oggi parliamo della misteriosa storia di Lori Kennedy. Lori Erika Kennedy incontra John Blakely Ruff, chiamato da tutti Blake, a Longview, una città del Texas. I due frequentano la stessa chiesa e quando si conoscono si piacciono all'istante, si può dire che sia stato amore a prima vista. Blake viene da una famiglia molto importante e molto conosciuta a Longview, erano diciamo i pilastri della comunità rispettati da tutti. I suoi genitori John e Nancy Ruff sono proprietari di una banca e di un'agenzia immobiliare e posseggono tanti tanti soldi. Sono una famiglia che gode di un'ottima reputazione, cosa molto importante per loro, erano sempre in vista diciamo a Longview. Di conseguenza quando il loro figlio Blake gli racconta di aver conosciuto una donna, anzi di aver perso la testa per una donna, loro non vedono l'ora di conoscerla. Blake allora organizza un pranzo a casa dei genitori insieme anche a suo fratello gemello David e a sua moglie e ovviamente anche insieme a Lori che diventa subito il centro dell'attenzione di tutti. Ma palesemente a Lori tutte queste attenzioni ma soprattutto tutte quelle domande che le venivano fatte non piacciono. I genitori di Blake iniziano a chiederle cose normali in realtà domande che uno pone a qualcuno che è desideroso di conoscere, domande come dove sei nato, dove sei cresciuto, dove sei andato a scuola. Ma Lori è chiaramente a disagio e risponde a queste domande in modo evasivo. Alla fine di questo pranzo le uniche cose che la famiglia Ruff aveva appreso sulla vita di Lori erano le seguenti. Era nata in Arizona, era figlia unica, i suoi genitori erano morti e non aveva altri parenti. E basta. Quando Lori e Blake vanno via i genitori John e Nancy rimangono con una brutta sensazione. Lori non era stata per niente socievole, non aveva voluto fare conversazione, non si era aperta per nulla, era quasi come se stesse nascondendo qualcosa. Insomma il giudizio finale sulla nuova fidanzata del figlio era negativo perché parliamoci chiaro il solo fine di quel pranzo era di giudicare la nuova fidanzata del figlio. Capire se fosse alla sua altezza oppure no, all'altezza di quella famiglia oppure no. Beh secondo loro chiaramente non lo era. E non aspettano neanche un secondo prima di parlarne a Blake. Lo mettono in guardia dicendogli che comunque venendo da una famiglia così importante e facoltosa come la loro doveva stare attento. Magari quella donna lo stava solo manipolando per farsi sposare con l'unico fine di mettere le mani sui suoi soldi. Ma Blake li ferma subito dicendogli che Lori era fatta così, era molto riservata soprattutto sul suo passato. Doveva aver vissuto qualche esperienza traumatica o qualcosa che comunque voleva dimenticare perché non le era mai piaciuto parlare di quando era piccola e aveva esplicitamente chiesto a Blake di non farle domande a riguardo. Aveva addirittura distrutto tutte le foto della sua infanzia, dei suoi genitori, tutte le foto del suo passato. Quindi qualsiasi cosa le fosse capitata doveva essere orribile. E il punto è che a Blake questo non turbava affatto. Era molto rispettoso del volere di Lori. Lei non voleva parlare del suo passato? Perfetto. Lui lo accettava. Lui l'amava per quello che era adesso. Non gli importava di dover per forza sapere tutto di lei. Ragionamento che però non viene condiviso dalla sua famiglia. Per loro quella era la prova che nascondesse qualcosa di marcio, di negativo. Non gliela stava raccontando giusta. Ma Blake pone fine alla conversazione dicendo ai genitori di non permettersi mai più di giudicare o di parlare male di quella che ben presto sarebbe diventata sua moglie. La famiglia Ruff, come avrete capito, è molto tradizionalista. Per loro era importante che le persone che entravano a far parte della loro famiglia fossero affidabili all'altezza per poter tramandare il loro nome e la loro fama nel tempo. E Lori non era il tipo di persona che vedevano in tutto ciò. Provano infatti più volte a convincere Blake a cambiare idea rispetto al matrimonio, ma senza successo. E quando capiscono che Blake non avrebbe cambiato idea, contro voglia decidono di fare uno sforzo e accettare la cosa. La madre, Cindy, per andare incontro all'inevitabile nuova nuora, fa a modo suo un gesto per avvicinarsi a lei. Ovvero le comunica di avere intenzione di far pubblicare una bella foto sul giornale locale che annunciasse le loro imminenti nozze. E quella è un'usanza di quelle parti. Un'usanza ovviamente solo delle persone di un certo livello. Quindi per Cindy questo è un gesto come per dire ti sto accettando nella mia famiglia, addirittura metto la tua faccia sul giornale. Era un motivo di orgoglio. Ma Lori prende invece malissimo questa cosa. Erano sintonizzate proprio su due frequenze diverse. Lori era riservata, non voleva spiattellare la sua faccia e i suoi affari privati sul giornale locale. Non se ne parlava proprio. Convince quindi Blake a scappare insieme e a sposarsi di nascosto in una piccola chiesetta lontana da lì, a Dallas, senza invitare nessuno. C'erano solo lei, Blake e il pastore che li sposava. Chiaramente la cosa viene vissuta malissimo dalla famiglia Ruff. La prendono proprio come una grossa mancanza di rispetto e la loro opinione su Lori non fa altro che peggiorare ancora di più. Dopo il matrimonio Lori e Blake si trasferiscono in un'altra cittadina di nome Leonard, a circa un'ora e mezza da Longview. E questo sempre per il volere di Lori. Leonard era una cittadina veramente minuscola. Amici, contava sì e no 2000 abitanti. Non che Longview fosse una metropoli, ma contava comunque sui 90.000 abitanti, quindi era comunque una città. Agli occhi della famiglia Ruff era sempre più chiaro il fatto che Lori volesse vivere una vita lontana dagli occhi di tutti e non sono infatti per niente sorpresi del fatto che avesse scelto proprio Leonard come luogo in cui vivere. Erano anche convinti che stesse cercando di allontanare il loro amato figlio da loro e voglio dire probabilmente è così. Questa famiglia mi dà l'impressione un po' di quelle famiglie invadenti, non pensate, che hanno un po' la presunzione di sapere quello che è meglio per i loro figli, che pensano di essere al di sopra di tutti, quindi sono sempre pronti a giudicare e in ogni caso avevano effettivamente passato molto tempo a tentare di convincere Blake a non sposare Lori, quindi non mi sorprenderebbe se Lori avesse davvero voluto trasferirsi in un'altra città solo per allontanarsi dai Ruff, no? Da un lato posso capire questa cosa. La loro vita a Leonard comunque è molto tranquilla, come potete immaginare, essendo Lori una persona molto riservata e solitaria non hanno una particolare vita sociale, ma fanno comunque amicizia con qualcuno. Lori, per esempio, stringe amicizia con una donna della sua stessa chiesa di nome Diane. A Diane Lori racconta qualcosa del suo passato, qualcosa di diverso però da quello che aveva raccontato ai genitori di suo marito. Lei dice che i suoi genitori avevano divorziato quando lei era piccola e che dopo il divorzio suo padre era diventato ateo e aveva iniziato ad uscire con un sacco di donne diverse e per questo lei aveva deciso di distanziarsi da loro, non voleva più averci niente a che fare. Invece alla famiglia di Blake aveva detto che i suoi genitori erano morti, vi ricordate? E questo dettaglio ricordatevelo perché tornerà più avanti nel video. Comunque dopo il matrimonio Lori e Blake vogliono fare un figlio. Lori voleva disperatamente un bambino. Diventare mamma era la cosa che desiderava di più al mondo ma purtroppo nonostante gli svariati tentativi non riusciva a rimanere incinta o peggio non riusciva a portare a termine la gravidanza. Lori infatti rimane incinta quattro volte e per ben quattro volte purtroppo perde il bambino cosa che per lei è devastante. E in tutto ciò la famiglia di Blake invece che provare ad essere comprensivi, ad essere di supporto, non si fanno scappare l'occasione per fare del gossip, degli spettegules. In un momento così delicato della vita di Lori e non solo perché comunque il fatto di non riuscire ad avere un figlio stava pesando anche su Blake. È davvero frustrante quando una coppia è pronta ad allargarsi, quando si è pronti a diventare genitori ma invece non si riesce. E perdere quattro bambini, dio mio, non riesco neanche ad immaginare come ci si possa sentire. Quindi sicuramente la coppia non stava attraversando un momento semplice. E in tutto ciò Cindy Ruff, la madre di Blake, coglie l'occasione per far riflettere il figlio sulla possibilità che sua moglie stesse mentendo anche sulla sua età. Perché Lori diceva di avere 35 anni ma Cindy pensa che stia mentendo anche su quello. Doveva essere più grande di così. Ecco perché forse aveva difficoltà a rimanere incinta. Ma finalmente dopo quattro anni Lori rimane incinta e dà alla luce una bambina. La coppia è felicissima della nascita di questa bambina dopo quattro anni di tentativi, il loro sogno si era finalmente avverato. Ma Lori diventa subito estremamente protettiva nei confronti di questa bambina, in modo quasi ossessivo. Non lasciava che nessuno la prendesse neanche in braccio, persino quando doveva andare in bagno preferiva portarla con sé piuttosto che lasciarla a qualcun altro, specialmente se la persona a cui doveva lasciarla era qualcuno della famiglia di Blake. I genitori di Blake ovviamente vogliono essere inclusi nella vita di questa nuova bambina, vogliono essere presenti. Per loro la famiglia è importante quindi vogliono passarci del tempo insieme, vogliono viziarla, vogliono fare i nonni. Ma Lori no. Lori fa di tutto per non fargli passare del tempo con sua figlia. Ogni volta che tentavano di organizzare qualcosa tutti insieme Lori rispondeva di no. Aveva sempre qualche scusa pronta per non andare da loro o comunque per non passare del tempo con loro. Cosa che ovviamente infastidisce ancora di più i genitori di Blake, più di quanto già non fossero infastiditi da lei. E questa tensione tra i Raph e Lori dalla nascita della bambina si intensifica davvero tanto. Lori si lamenta con Blake costantemente dei suoi genitori e questo mette Blake in una posizione davvero orribile. Perché comunque lui amava i suoi genitori ma amava anche sua moglie e quindi si trovava nel mezzo di questa faida senza fine. E oltretutto Blake era un tipo veramente tranquillo, uno che non si faceva troppi pensieri, a cui piaceva vivere la vita nel modo più semplice possibile. Di conseguenza tutto questo dramma non faceva proprio per lui. Infatti il suo rapporto con la moglie inizia lentamente a sgretolarsi e dopo due anni passati così Blake non ne può più e la lascia. Blake chiede il divorzio da Lori. Lui torna a vivere a casa dei suoi genitori e la figlia inizia a passare una settimana con Lori e una settimana con Blake. Cosa che per Lori è estremamente difficile perché come già detto era legatissima a sua figlia in modo quasi ossessivo. Quindi all'improvviso da che non riusciva a separarsene neanche per andare in bagno immaginate ora doveva separarsene per giorni e giorni e doveva separarsi anche da suo marito che comunque amava tantissimo. Questa situazione la devasta completamente. Per la prima volta nella sua vita aveva anche lei una famiglia, una famiglia tutta sua e adesso era tutto finito, era rimasta da sola. Lori cade in una brutta depressione, inizia a perdere molto peso, non si prendeva più cura di sé né della sua casa. Casa sua inizia ad essere sempre sporca, in disordine e ogni volta che doveva dare sua figlia a Blake per passare il weekend con lui, insomma ogni volta che dovevano passarsi questa bambina, Lori rendeva la cosa il più difficile possibile. Inizia a fare costantemente scenate, a crisi di pianto, crisi di rabbia, anche contro i genitori di Blake. Inizia a mandargli proprio delle mail piene di rabbia e anche minacce perché secondo lei era stata colpa loro se i due si erano separati. A questo punto Lori è disperata e agisce come se non avesse più niente da perdere, non so come dire, perché desiderava così tanto avere una famiglia che il fatto che adesso non ce l'avesse più la portava ad agire in questi modi irrazionali. Qualche mese dopo mancava poco a Natale e quello sarebbe stato il primo Natale che Lori avrebbe passato completamente da sola perché i Raph avevano convinto Blake a tenere lui, la bambina, convinti che si sarebbe divertita di più insieme a loro dato che Lori comunque non aveva nessuno. E Lori era talmente triste di passare il Natale da sola che aveva guidato fino a casa loro, si era presentata lì all'improvviso e aveva fatto una grande scenata dicendo che non era giusto tutto quello che le stavano facendo e pretendendo che le dessero la bambina così che potesse tornare a casa con lei. E i Raph non solo non le danno la bambina ma la sbattono anche fuori di casa con la forza mentre lei piange, urla dicendo che l'unica cosa che voleva era la sua famiglia, voleva solo che tutto tornasse come prima. E così arriviamo al giorno della vigilia di Natale quindi siamo al 24 dicembre del 2010. La mattina della vigilia Lori si mette di nuovo alla guida della sua macchina e guida fino a Longview. Intorno alle 7 del mattino arriva e parcheggia la sua auto nel vialetto davanti a casa dei Raph. Tira fuori una pistola e si spara dritto alla testa uccidendosi. Poco dopo verso le 7.30 John Raph il padre di Blake esce per prendere il giornale e nel farlo vede la macchina di Lori parcheggiata lì davanti. La macchina era ancora accesa e anche con le luci accese ma non riusciva a vedere se all'interno ci fosse qualcuno oppure no. Quindi rientra e a quel punto erano tutti talmente stanchi delle scenate e delle sfuriate di Lori che la prima cosa che fanno è chiamare la polizia perché si erano ripromessi questo che se si fosse di nuovo presentata senza preavviso avrebbero chiamato le autorità. Ma quando arrivano gli agenti e si avvicinano alla vettura si accorgono che Lori all'interno era morta. Aveva ancora la pistola in mano e c'era sangue dappertutto. All'interno del veicolo trovano due lettere scritte a mano da lei. Una era per Blake e una per sua figlia ma con scritto di non leggerla e non aprirla fino al compimento dei suoi 18 anni. La lettera a Blake a detta dei suoi genitori era solo lo sconclusionato sproloquio di una persona fortemente disturbata ma dalle poche cose che sono state pubblicate di questa lettera sembrerebbero più le ultime parole di una donna disperata. C'è da dire che la lettera era di 11 pagine e sono stati pubblicati solo alcuni stralci quindi chi lo sa. Comunque nelle parti che sono state rese pubbliche Lori scrive Mio carissimo marito tu sei una persona speciale la cosa più bella che mi sia mai capitata. Mi dispiace molto per come sono andate le cose sicuramente entrambi avevamo bisogno di aiuto nell'imparare a comunicare tra noi. Voglio che tu sappia il motivo per cui ho deciso di farla finita. Non volevo morire come una donna divorziata quindi l'ho fatto prima che il divorzio venisse finalizzato del tutto. In questo modo tu sei ancora mio marito e lo sarai per sempre. Non riuscivo a sopportare l'idea di diventare vecchia senza di te. Avrei voluto starti accanto per sempre seduti vicini alla laurea di nostra figlia al suo matrimonio e insieme ai nostri futuri nipotini. Ti amerò per sempre tua Lori. Ci ho fatta senza piangere aiuto. Nelle altre pagine non si sa cosa ci fosse scritto ma una cosa invece si sa. Lori si raccomandava con Blake che fosse lui a ripulire e a suotare casa loro a Leonard. Si raccomandava di non lasciare entrare nessun altro là dentro di non lasciare che nessun altro toccasse le sue cose. Doveva farlo Blake. Mentre invece la lettera dedicata a sua figlia con scritto di non aprirla fino al compimento dei suoi 18 anni viene aperta subito dai genitori di Blake che non avevano mai rispettato il volere di Lori da viva. Figuriamoci se lo avrebbero rispettato da morta. Quindi la aprono e la leggono subito nella speranza di trovare informazioni sul suo passato perché per loro il fatto che si fosse tolta la vita in quel modo confermava tutti i loro sospetti. La donna nascondeva qualcosa ma invece no il contenuto della lettera per la figlia non si conosce ma si sa che all'interno comunque non c'erano informazioni sul suo passato. Dopo il funerale decidono di andare nella casa di Lori per suotarla e nonostante lei avesse lasciato scritto come richiesta che fosse Blake a farlo anche questa sua volontà non viene rispettata. Blake rimane molto scosso da quella morte improvvisa e non riuscirà mai più a mettere piede in quella casa. Decidono quindi di suotarla il suo fratello gemello David insieme ai genitori e amici sono felicissimi di farlo perché finalmente avrebbero potuto frugare indisturbati tra le sue cose finalmente avrebbero potuto scoprire che cosa nascondeva forse avrebbero trovato finalmente qualche risposta perché non potevano darsi pace giusto non potevano accettare che questa donna avesse delle cose del suo passato che non voleva far sapere saremo mica padroni di quello che vogliamo far sapere oppure no agli altri no giammai la famiglia Ruff voleva risposte a tutti i costi e come scusa per questo comportamento usano la bambina dicendo che non volevano che la bambina crescesse e che poi magari ad un certo punto avrebbe dovuto affrontare qualsiasi cosa spaventosa ci fosse nel passato di sua madre. Avevano paura che qualsiasi cosa orribile nascondesse sarebbe poi esplosa nella vita della figlia e loro volevano impedire questo e da un lato ci sta come ragionamento ma secondo me erano solo molto curiosi era una famiglia comunque abituata ad avere tutto e anche in questo caso volevano semplicemente avere ragione scoprire qualcosa per poter dire a Blake avevamo ragione noi quella donna nascondeva qualcosa. Comunque casa di Lori era in uno stato spaventoso rifletteva senz'altro quello che doveva essere stato il suo stato mentale di quell'ultimo periodo era incasinatissima c'era roba ovunque immondizia sparsa piatti sporchi da chissà quanto tempo. I Ruff iniziano a ripulirla e a insomma frugare e ad un certo punto trovano una scatola nascosta nell'armadio di Lori e questa era una scatola chiusa con un lucchetto. Quando Lori era in vita e quando era ancora sposata con Blake gli aveva mostrato la scatola chiusa e gli aveva chiesto per favore di non toccarla di non cercare mai di aprirla e lui come già detto nel corso del video aveva rispettato questa sua richiesta. Blake era l'unico in quella famiglia che l'aveva rispettata e accettata per quella che era ma ovviamente quando David il fratello di Blake trova questa scatola nascosta e chiusa con un pensa eccoci qua sicuramente all'interno ci sarà qualcosa di interessante. Prende quindi un cacciavite e la scassina e all'interno amici trova effettivamente molte cose. Molte cose che fanno finalmente esclamare ai Ruff quello che non vedevano l'ora di esclamare ovvero avevamo ragione quella donna nascondeva qualcosa. Dentro la scatola trovano una patente dell'Idaho con la foto di Lori ma con su scritto un altro nome Becky Sue Turner. C'era anche un certificato di nascita anche quello con il nome Becky Sue Turner. C'era poi una lettera di raccomandazioni scritta da un certo Roger Steinbeck su un foglio con l'intestazione di un hotel a 5 stelle in Thailandia e c'erano anche svariati fogli con scritte un sacco di cose che sembravano randomiche delle note dei numeri di telefono indirizzi. C'era anche un documento che attestava che Becky Sue Turner aveva cambiato nome nel 1989 in Lori Kennedy che è il nome con cui la famiglia Ruff aveva conosciuto Lori. La famiglia Ruff a questo punto era abbastanza soddisfatta ma non del tutto. Avevano la prova che Lori nascondesse qualcosa ma non avevano ancora capito cosa. Decidono quindi di assumere un investigatore privato per andare fino in fondo. L'investigatore privato fa le sue indagini e dopo un po' torna dalla famiglia dicendo di aver trovato Becky Sue Turner. Peccato che era morta in un incendio nel 1971 e all'età di soli due anni. Quindi questa persona, questa Becky Sue Turner, esisteva davvero ma era una bambina ed era morta da tempo. La cosa stava diventando sempre più curiosa e i Ruff volevano saperne di più. Quindi attraverso alcune conoscenze che avevano ai piani alti nel 2011 riescono a mettersi in contatto con Joe Velling che era un altro investigatore privato ma specializzato in questo genere di cose. Risaliva alla vera identità delle persone o rintracciava persone che rubavano l'identità ad altri. Smascherava i truffatori. Insomma era un esperto in questo campo, uno dei migliori anzi. Quindi quando la famiglia Ruff si mette in contatto con lui e gli fornisce tutte le informazioni che avevano raccolto su Lori o Becky, lui gli dice di stare tranquilli. Avrebbe risolto quel caso in un attimo. Lori non sembrava certo chissà quale criminale ma con grande sorpresa invece non è così. Non riesce a trovare niente su di lei e comunica alla famiglia di essere stranito lui stesso della cosa. Perché quello significava invece che Lori doveva essere una criminale molto esperta per essere riuscita a sparire in quel modo oppure doveva avere delle conoscenze molto importanti. Non era sicuramente una cosa comune e ripeto a dirlo è un esperto nei furti di identità. L'unica cosa che questo Joe Velling aveva trovato su di lei risaliva al 1988. Lori si trovava in California e aveva fatto la richiesta per ottenere appunto il certificato di nascita di Becky Sue, la bambina di due anni morta in un incendio. E a quanto pare questa è una cosa che fanno i professionisti. A quanto pare il modo più efficace di sparire dai radar è di impossessarsi dell'identità di una persona che nasce in uno stato ma che muore in un altro. Non chiedetemi perché non sono un'esperta di burocrazia degli Stati Uniti ma il fatto che Lori abbia fatto proprio questo che abbia seguito questo iter significava che sapeva quello che faceva. E ovviamente stiamo parlando degli anni 80. Ad oggi non lo so sicuramente non credo che ad oggi sia così facile ottenere il certificato di nascita di una persona senza neanche conoscerla. Però ai tempi almeno in America a quanto pare era così. Comunque Lori aveva diciamo rubato l'identità di questa bambina, un mese dopo aveva preso la patente di guida nell'Aidaho sempre usando quel nome e successivamente aveva cambiato nome in Lori Kennedy. Si era trasferita in Texas e aveva conosciuto Blake. Scoprono anche che Lori aveva diverse cassette di sicurezza sparse in diversi stati e si faceva mandare la posta così facendola passare di cassetta in cassetta fino ad arrivare in Texas. L'investigatore va anche a parlare con i genitori di quella bambina di due anni Becky Sue Turner e gli mostra una foto di Lori ma ovviamente loro non la conoscevano. Va anche a parlare con dei vecchi compagni di scuola di Lori perché a quanto pare aveva studiato lì in Texas da adulta. Aveva preso uno di quei diplomi veloci attraverso quelle scuole che qui in Italia sono per esempio Cepu per capirci. E uno di questi compagni di scuola ricorda che per guadagnare qualche soldo Lori aveva lavorato in un night club per un periodo come spogliarellista e questo sciocca tutti nella famiglia Ruff perché comunque avevano conosciuto una Lori completamente diversa. Una Lori che non avrebbe mai fatto la spogliarellista. Era come se avesse vissuto tante vite completamente diverse tra loro. L'autopsia rivela anche che Lori avesse delle protesi al seno. Altra cosa che sciocca tutti ma l'investigatore in questo modo può risalire alla provenienza delle protesi così forse avrebbe potuto scoprire qualcosa di più su di lei ma purtroppo così non è perché a quanto pare si era rifatta al seno usando la sua ultima identità Lori Kennedy quindi niente di nuovo. Nel 2013 quindi la famiglia Ruff che non si è ancora arresa decide di rivolgersi ai media. Viene pubblicato un articolo sul Seattle Times e da lì la storia diventa virale e migliaia e migliaia di persone online ricondividono la storia e iniziano a parlarne sui vari forum tentando di capire di formulare una teoria su chi potesse essere questa donna e da cosa stava scappando. Vengono formulate le solite teorie forse era una spia russa forse scappava da un culto forse era in un programma di protezione testimoni forse era scappata da qualche giro di traffico di donne ma la vera svolta nel caso avviene nel 2016 quando la famiglia Ruff decide di prelevare del DNA dalla figlia di Lori e di mandarlo ad Ancestry.com che sarebbe un database di raccolta del DNA a cui volendo puoi mandare appunto un campione del tuo DNA in modo da sapere quali sono le tue origini o risalire al tuo albero genealogico. In America è molto diffusa come cosa e attraverso questi database negli anni sono anche riusciti a catturare tantissimi killer. Ne abbiamo parlato in altri video è una tecnologia che si chiama genealogia forense e in questo modo sono per esempio riusciti a prendere il famoso golden state killer dopo 30 anni che lo cercavano. Comunque dopo aver mandato il DNA della figlia di Lori incredibilmente la famiglia Ruff ottiene un riscontro. Colleen Fitzpatrick una scienziata esperta della genealogia forense decide di occuparsi del caso in prima persona e di aiutare Ruff a risalire all'albero genealogico di Lori e finalmente dopo un po' di tempo viene scoperta la sua vera identità. Colleen risale ai veri genitori di Lori di Anne Cassidy e James McLean. L'investigatore della famiglia Ruff Joe Velling decide quindi di prendere un aereo e di andare da loro fisicamente e quando gli spiega la faccenda e gli mostra una foto di Lori la coppia esclama oh mio dio ma questa è Kimberly e così finalmente viene scoperto il vero nome di Lori Kimberly McLean. Kimberly McLean era nata a Philadelphia in Pennsylvania il 16 ottobre del 1968. Di Anne sua madre aveva 80 anni a quel punto e racconta che non vedeva sua figlia da più di 30 anni e chiaramente era devastata dalla notizia della sua morte. Kimberly la chiameremo così amici perché questo a quanto pare era il suo vero nome era cresciuta appunto a Philadelphia insieme a sua sorella. Sua mamma di Anne faceva la casalinga e suo papà il carpentiere e anche il pompiere volontario. Kimberly a detta della sua vera famiglia aveva avuto un'infanzia normale felice anzi ma intorno agli anni dell'adolescenza i suoi genitori avevano divorziato e dopo un po' di tempo sua madre aveva conosciuto un altro uomo si era risposata e quindi insieme alle figlie si era trasferita in un'altra città. In questa nuova città Kimberly aveva fatto il liceo ma non lo aveva mai terminato. A detta di sua madre il divorzio è stato troppo difficile da accettare per lei. Ad un certo punto nel 1986 all'età di 18 anni era scappata di casa dicendo a sua madre di non cercarla e a quanto pare la famiglia ha accettato questa cosa. Da quel momento nessuno ha più avuto notizie di Kimberly. La madre dice di aver tentato di tutto per rintracciarla ma non ci è mai riuscita e ora sappiamo perché. Kimberly aveva cambiato identità diverse volte. Racconta però di non avere idea del perché lo abbia fatto, del perché si è scappata di casa e del perché abbia voluto con così tanta forza cancellare tutto il suo passato. Il lato positivo di tutta questa storia è che ad oggi la famiglia Ruff e la famiglia di Kimberly si sono unite, si sono messe in contatto e in questo modo la figlia di Blake e Kimberly ha ritrovato i suoi nonni. Ma il vero motivo della fuga di Kimberly non si è mai scoperto e probabilmente non si scoprirà mai. È possibile che abbia solo voluto cambiare vita? Vi ricordate di quella cosa che aveva detto alla sua amica Diane che i suoi genitori avevano divorziato quando lei era piccola e che poi suo padre era diventato ateo e aveva iniziato ad andare con molte donne e che quello era stato il motivo che l'aveva spinta ad allontanarsi. Può essere che in questo ci sia della verità? Kimberly era una persona estremamente religiosa come abbiamo visto ma oddio cambiare identità più volte in questo modo mi sembra un po' estremo. Voi cosa ne pensate? Comunque la parte triste invece di tutta questa storia è che Kimberly sicuramente non avrebbe mai voluto che tutto ciò venisse fuori, che addirittura persone come me facessero video sulla sua storia su YouTube. Pensate a quanto era riservata e la cosa che mi fa rabbia è che cercando su Google il suo nome, cercate Lori Erika Kennedy Ruff che è il nome per cui è più conosciuta, viene fuori ladra. Cioè Google o Wikipedia non sono sicura la identifica come una ladra, una ladra di identità che oddio da un lato è vero perché ha rubato l'identità di quella bambina ma il fatto che tutta la sua vita si riduca a questo, non lo so, mi mette tanta tristezza. Sono certa che ci sia un motivo più grande dietro a tutto quello che ha fatto, dietro all'impegno che ci ha messo nello scomparire e l'unica cosa che voleva d'altronde è che i suoi segreti rimanessero tali ma nessuno ha rispettato questa volontà, anzi ad oggi la sua storia è diventata virale e oggetto di interminabili conversazioni e teorie del complotto online e sono sicura che se potesse vedere tutto questo Lori o Kimberly insomma come vogliamo chiamarla non sarebbe affatto felice. Queste amici sono tutte le informazioni che ho trovato su questo caso, fatemi sapere se ne avevate già sentito parlare, lasciatemi un commento come al solito e come al solito amici io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video, ciao!